Un saluto a tutti gli amici di Poker Italia 24 e ben ritrovati ad una nuova puntata di Come Giochi, il programma di grande successo firmato Glamming.it. Scopriamo subito chi è il concorrente di oggi che testerà le proprie capacità di gioco, lui si chiama Stefano Calicchio, viene da Sant'Angelo a Cupolo, il suo nickname è Sagno e la sua specialità è Let's Up, Sit & Go High Stakes, giusto? Sì. E allora è un piacere che sei qui con noi caro Stefano anche perché sappiamo che tu sei un giocatore abbastanza forte. Me la gravo. Per due motivi, il primo motivo è perché il tuo status VIP è quello del re quindi ti trovi nel massimo livello. E il secondo motivo è perché hai battuto Flavio Ferrari Zumbini. Sì. E allora scusa, io voglio scoprire subito cosa ne prezza Flavio, vieni con me. Caro Flavio, che cosa è successo? Come ti ha battuto? Prego, accomodati. Non ce ne sono tanti che mi hanno battuto, forse uno a quest'ora. Ti ricordi cosa è accaduto con lui? Come no, ci incontriamo spesso sul sito, sì. Ecco. Mi rifarò. Ecco, quindi stai a te. Non in questa sede, vi prego. Prego, e allora ti presento il nostro Jackson Genovesi, Andrea Dato e ovviamente a Flavio, lo conosci benissimo, Flavio Ferrari Zumbini. A tra poco, mi raccomando, che saranno cattivi. Eh. Beh, niente Zappa e Stakes, è una mano di cash game, in sei al tavolo, hai 100 blinds a tua disposizione, sei in late position, decidi di aprire con Dama Fante di Fiori. Difende solamente il big blind, quindi il pot adesso è sei e mezzo. Questo è il flop. Check da parte del big blind, la parola a te. Quanto abbiamo aperto? Tre? Tre, sì. Vabbè, vado in... decido di cibettare quasi pot, 5-5, perché comunque la mia mano al momento è Don Haig, quindi è importante anche vincere al no showdown. Quindi non sarei del tutto scontento se la mano terminasse adesso, se non dovesse terminare, comunque è un'ottima potenzialità, ho tante outs per poter chiudere il mio punto. Call. D'accordo? Allora, facciamo finta che tu abbia puntato 5, il pot è 16 e mezzo, il turn è il 4 di cuore, check. Decido di second barrellare perché eventualmente il mio avversario avesse una mano... potrebbe avere tanti draw, potrebbe avere dei 9, potrebbe avere dei jack che non possono sostenere una 3 barrel. e quindi la mia mano ha... continuo ad avere un'ottima potenzialità e oltre a questo una buona... una buona blef equity, quindi insisto. Decido di bettare un'altra volta vicino pot, quindi abbiamo detto che... 16 e mezzo. 16 e mezzo, ok. 15. Call da parte del tuo avversario. Sì. River, asso di fiori. Check. È un'ottima carta, posso insistere nel blef e quindi decido di, per massimizzare la fold equity, di andare direttamente all in. Pot è 46, quindi tu hai circa 75. Il mio avversario potrebbe avere tantissimi draw mancati, potrebbe avere tanti 9 che decide di foldare, tanti 10, jack 10, donna 10, anche k10. Però similmente è un'ottima possibilità per... Ok, quindi vai all in. Sì. Call da parte del tuo avversario che gira asso 9, perdi il colpo ma... È una mano un po' sfortunata. Prego. Ma probabilmente era la cosa migliore che potessi fare in quel momento. Sì. Una domanda subito voglio farti, se al River fosse uscito anziché l'asso un 3, per esempio, sul check avversario in generale... Io penso che mi sarei comportato uguale. Avresti puntato, perfetto, perché volevo dire, proprio per quello che avevi detto, puntare quel turn per poi decidere di non puntare River, in generale non è una buona giocata. Non ha senso. Ok, perfetto. E io direi che la linea è abbastanza pulita, nel senso che lo sviluppo del board è perfetto per un triple barrel in bluff, perché comunque hai sempre tanta equity e giustamente dici la fold equity sulla mia puntata è sempre molto elevata. Le size sono un pochino troppo allegre, diciamo, nel senso che non pensare per forza che maggiore la puntata, maggiore la probabilità che l'avversario passi. D'accordo? Diciamo che questo bluff puoi farlo pulito pulito senza investire tutto il tuo stack, ma puntando un due terzi, due terzi, tre quarti per esempio, o anche mezzo, due terzi pot, cose del genere. Invece tu hai forzato la mano al flop, hai forzato al turn e hai forzato molto al river. Soprattutto al river non mi piace puntare così tanto perché il tuo range è molto polarizzato, preferirei fare una puntata magari poco meno del pot. Comunque la linea è molto pulita, le size un po' eccessive, però poco da eccepire. Io non sono d'accordo con Andrea stranamente, perché di solito ci troviamo d'accordo, ma se fosse uscito un 3 io non avrei mai triple barrelato al river, per esempio. Però troppe mani ti chiamano turn, cioè troppe mani ti chiamano turn che hanno chiamato flop. Quindi praticamente giochi quasi solo l'equity della tua mano. Sì, ma su un pay rato, nel senso un 10 non passa, un 9 a volte non passa. Beh, i 10 e i 9 effettivamente sono proprio brutte perché rafforzano troppo il range avversario. Vabbè, comunque a parte questa cosa, al flop mi piace il close to pot, per esempio, mentre sia al turn che al river non mi piacciono le sides. Al flop va bene perché giustamente come dici tu hai donna alta, va benissimo vincerla qua. Abbiamo infinità equity e il progetto è nuts, quindi perfetto. Al turn sai che verrai chiamato molto spesso comunque, no? Perché su quel 4 una volta che tiri la seconda, spesso e volentieri verrai chiamato. Anche che lui dovesse avere 7-8, non è che passa la bilaterale quando betti al turn. Quindi il tuo 15 poi, come dice Andrea, ti costringe a fare una puntata ancora più alta al river, in puttacaso non dovesse entrare la tua, no? E su asso river il pot è tipo 50 al river e tu fai all-in 75. Tutte le draw passano, ok? Tutte le draw mancate passano, siamo d'accordo. Ma passano anche con 28, giusto? Sei d'accordo o no? Sì, può capitare qualche call da eroe con jack 10, donna 10. Sì, un 10, sì, siamo d'accordo, però così hai investito tutto il tuo stack. Mentre come dice Andrea, puoi fare questo bluff e ti funziona nello stesso modo spendendo forse metà del tuo stack. Quindi invece di perdere 100, perdi 50. Però comunque mi è piaciuta la triple barrel, quello che hai detto è stato sensato, quindi sono d'accordo. Anche a me la linea della mano è piaciuta molto, però in effetti appunto come ti hanno fatto notare, andare questo all-in sul river in realtà ti polarizza ancora di più. Nel senso tu qui vuoi far passare 10 jack che ha contro una triple barrel, non c'è bisogno. Hai parlato proprio di bluff equity, mettendo in evidenza come sia giusto nello sviluppo del board, allo scendere delle carte, proseguire in questo tuo piano malefico perché stai acquisendo bluffing equity, però non pagare un prezzo troppo alto laddove non è richiesto. Quindi condotta della mano secondo me perfetta, size da rivedere. E allora Stefano, perfetto, però il tuo range è troppo polarizzato, è un peccato. Comunque passiamo subito alla votazione per scoprire allora cosa ne pezzano i nostri professori. Cominciamo con Andrea. Beh io direi che questo 6 è più che meritato, perché a parte le size la linea è perfetta. Jackson? Io sono per un 7 perché i ragionamenti sono stati giusti, ovviamente hai da migliorare determinate cose, però ci siamo. Flavio? 7 anch'io, linea di condotta del colpo davvero molto bella. E allora Stefano hai ottenuto un ottimo punteggio, 20? Sì. Sei contento? Sì, sì, contentissimo. Bravo, vabbè, ma tu sei un re e quindi era il minimo. Allora vieni con me, prego puoi alzarti, ti accompagno perché devo darti dei gadget e anche un assegno che è offerto ovviamente da Glamming.it e sono 50 euro di bonus. Grazie. E oltre a questo i nostri gadget, che ormai conoscete anche questi benissimo, la nostra busta con tanti piccoli pensierini per voi. Grazie Stefano per essere stato con noi, ciao. Ciao e grazie anche a voi per averci seguito in questa puntata, ci rivediamo alla prossima. Grazie a tutti.